Salve, in questo secondo video esamineremo Sinelerra, facendo la conoscenza della sua interfaccia ed iniziando ad esaminare i suoi comandi e i suoi menu. Faremo un'analisi approfondita, sia perché basata sul manuale di riferimento, che ovviamente spiega tutto punto per punto, ma anche perché è importante capire il programma e la sua filosofia di funzionamento. Sinelerra è un programma complesso e richiede un certo sforzo di apprendimento. Fare un esame dettagliato, allora, per quanto noioso possa risultare, è un passo fondamentale per una maggiore comprensione e per progredire. Possiamo così arrivare a dire che Sinelerra è in realtà facile, con un workflow ben studiato. Io possiedo Arch Linux con KDE e Sinelerra CV, cioè la Community Version, si trova nel repository principale e basta quindi installarlo con Pacman. Mentre per la versione GG che ho installato, va prima aggiunto il repository in pacman.conf e poi aggiornati i repository e infine installato con Pacman. Procedimenti simili si trovano anche per le altre distribuzioni e tutti i dettagli si trovano sul manuale e sul sito web. Come avevo anticipato nel primo video, non mi soffermerò sull'installazione, ma se avete domande al riguardo chiedete pure nei commenti che vediamo di approfondire. La cartella di configurazione e dei file temporanei si chiama .bcast5 e si trova in home-utente.bcast5. Cancellando questa cartella, all'avvio successivo il programma ritornerà alla configurazione di default, ritornerà vergine potremmo dire. Invece librerie e binari si trovano in usr-share-cin. Avviando il programma, possiamo subito constatare quanto il boot sia veloce. Provate a paragonarlo agli altri editor video per rendervene conto. Una volta aperto, ci troviamo di fronte a un'interfaccia a quattro finestre scollegate. Già questo fa pensare che il programma è rivolto a professionisti che lavorano con due o più monitor. L'editing video, infatti, ha bisogno di molto spazio e di finestre grandi e ben visionabili. Pensate che io uso un portatile di 15 pollici ed è una vera tortura. Mi tocca quindi chiudere finestre che non uso al momento e ridimensionare e aprire le altre in continuazione. L'interfaccia di Sinella Raffovrisce queste continue variazioni. Peccato e non importa nessuno perché una tale interfaccia è considerata brutta e antiquata. Il programma si ricorda dell'ultima impostazione e la mantiene agli avvii successivi. Se poi, dopo molte variazioni, vogliamo ritornare al default, basta andare nel menu Finestra e scegliere Posizioni predefinite. In alto a sinistra si trova la finestra Viewer, dove poter visionare le clip da importare nella Timeline. Alla sua destra c'è la finestra Compositor, dove riprodurre il risultato del nostro editing fatto sulla Timeline. In basso a destra c'è la finestra Risorse, dove sono elencate tutte le clip importate nel programma, che troviamo nella cartella media. E si trovano anche tutte le transizioni e tutti gli effetti audio e video. Infine c'è la finestra più importante, chiamata Finestra Programma, che contiene la Timeline, con la sua fila verticale di tracce, dette anche Pila o Stack di tracce. E la Time Bar, che rappresenta lo scorrere delle clip e quindi del tempo. Cominciamo a spezionare e a descrivere quest'ultima finestra. La finestra Programma contiene la Canvas, della Timeline e il punto di inserzione, detto anche punto di entrata o corsore lampeggiante. Come dice il nome, è il punto in cui agiscono i comandi dati tramite i vari pulsanti o i comandi trovati nei menu. Le clip possono essere concatenate una di seguito all'altra in un'unica traccia o distribuite su più tracce impilate una sopra l'altra in senso verticale. Ci sono tracce di tipo audio, ben riconoscibili dalla caratteristica forma d'onda di colore verde, e tracce di tipo video, che contengono le immagini dei frame delle clip di riferimento. Si potrebbe dire che c'è una terza categoria di tracce, che sono quelle dei titoli o sottotitoli, cioè sono tracce testuali, però in realtà sono praticamente uguali a quelle alle tracce video come caratteristiche. Il concetto fondamentale dell'editing è che scorrendo le tracce o nel punto di inserzione, noi stiamo in realtà scorrendo nel tempo. Facciamo un esempio. Premiamo il pulsante Arab per entrare in modalità Drag & Drop. Adesso clicchiamo sulla barretta rossa sulla Time Bar che rappresenta il cursore, e tenendo premuto trasciniamola avanti e indietro lungo la timeline. Più a destra andiamo e più avanziamo nel tempo fino ad arrivare alla fine della clip. Trascinando all'indietro invece, torniamo verso l'inizio della clip. Sulla sinistra della Time Bar abbiamo un quadrante con le cifre verdi, che è una specie di cronometro che indica l'esatto momento in cui si trova ad essere il punto di inserzione. Spostando il cursore lungo la timeline, cambierà di conseguenza l'orario indicato dal quadrante. Vedremo successivamente che SineLerra fornisce molti modi per muoversi nella timeline e nella pila di tracce. Voglio precisare adesso che, a differenza di tutti gli altri programmi che lavorano sulle clip, SineLerra lavora sulle tracce nella loro totalità. È importante avere chiaro questo concetto, perché è uno degli aspetti che confondono gli utenti che non conoscono il programma e che, dopo averlo provato, non vogliono più averci niente a che fare. Continuiamo l'ispezione della finestra. Sotto il menu, e prima della Time Bar, c'è la barra dei pulsanti. I primi fra questi sono i classici tasti di riproduzione dei filmati, che si trovano anche in tutti i video player. Sono chiamati comandi di trasporto. Ce ne sono, però, qualcuno in più rispetto a comuni video player. Come per esempio quelli per l'avanzamento e arretramento di un fotogramma alla volta, e c'è anche il pulsante di play invertito, cioè che fa avanzare la riproduzione al contrario, verso l'inizio della clip. Un montatore video, infatti, si muove tranquillamente avanti e indietro per la clip durante il suo lavoro di editing. A sinistra di ogni traccia si trova la patch bay, che permette di configurare e modificare il comportamento della relativa traccia. Per esempio, ci permette di armare la traccia, cioè renderla pronta per le modifiche, o disarmarla per impedire che venga editata. È l'icona rossa-bianca a forma di lucchetto, oppure a forma di puntolino se uno usa un tema diverso da quello che uso io. La patch bay è molto importante e la examineremo in dettaglio successivamente. Naturalmente, Sine Lerra permette di cambiare e configurare ogni singolo aspetto delle pile di tracce e della timeline. È una cosa ovvia, visto che è il punto centrale di ogni programma di editing. La barra laterale di scorrimento verticale ci permette di spaziare su e giù lungo la pila di tracce, ma è più comodo usare la rotellina del mouse. La barra di scorrimento orizzontale ci fa invece scorrere lungo la timeline, ma anche qui è più comodo usare il control più la rotellina del mouse. Ci sono anche molte scorciatoie da tastiera, oltre a quelle appena dette, ma le lascio scoprire a voi perché sono ancora abbastanza inesperto da non essere pratico del lavoro con la sola tastiera. La versione 5.1 ha la possibilità di suddividere in due la canvas, cioè lo spazio della timeline. In senso verticale o in senso orizzontale possiamo fare questa divisione. Non è una funzione fondamentale, ma può essere comoda per avere sott'occhio contemporaneamente l'inizio e la fine di una traccia molto lunga, che va magari oltre a confini della finestra e quindi non è visualizzabile. Oppure può servire per vedere la stessa zona con due livelli diversi di zoom. Per fare questo si usano i comandi split X o split Y che si trovano nel menu finestra. Sotto il pannello della timeline c'è la barra degli zoom. Il primo menu a tendina, chiamato sample zoom, permette di scegliere il livello di zoom, per esempio per far rientrare tutte le clip concatenate in un unico colpo d'occhio. Per fare la stessa cosa si può usare anche l'apposito pulsante sulla barra dei pulsanti. Oppure si può ingrandire una piccola zona della clip, in modo da poterci lavorare con più comodità e precisione. Invece di usare il menu a tendina, che ci permette di scegliere fra i vari livelli di zoom, è più comodo portare il cursore del mouse sopra il menu e variare lo zoom con la rotellina. Ulteriore metodo è di portarsi su una qualsiasi zona della canvas e poi usare shift più rotellina del mouse. L'effetto di tutti questi comandi è quello di variare la scala della time bar. Osservandola attentamente e aumentando lo zoom, si vede che la distanza fra i segni del righello aumentano la loro distanza reciproca, prendendo più spazio per rappresentare la stessa unità di tempo. Oppure il contrario se si diminuisce lo zoom, ovviamente. Il secondo campo, preimpostato a 64, è chiamato ampiezza delle onde e permette di variare l'estensione in altezza della rappresentazione delle onde sonore. È utile nell'editing audio. Il terzo campo, anch'esso di valore di default uguale a 64, varia la dimensione verticale delle tracce, ingrandendole se serve vedere meglio o rimpicciolendole se bisogna recuperare spazio. Può essere utile, per esempio, ad aumentare lo spazio disponibile alla Patch Bay in modo da mettere in evidenza anche la seconda riga delle opzioni, che di solito è nascosta alla vista per non sprecare troppo spazio. Oppure può servire per avere una vista più comoda degli innumerevoli strati di effetti che possiamo aggiungere alla traccia in fase di editing. Il quarto e il quinto campo della barra si chiamano automazioni curve, oppure curva degli zoom, e ci permette di impostare gli intervalli di definizione delle curve. Questi importanti strumenti li approfondiremo successivamente. Anticipo però che parliamo delle curve di dissolvenza, o fader in inglese, sia audio che video, della curva zoom che riguarda l'asse Z, della curva delle velocità e delle curve di traslazione lungo X o lungo Y. Oltre a variare i valori immettendo dei numeri, possiamo usare anche lo scroll del mouse e le scorciatoie da tastiera. Infine, i successivi tre campi di immissione servono a definire numericamente, quindi un'assoluta precisione, una zona da selezionare lungo la traccia. Il primo campo determina il fotogramma di partenza della selezione, il secondo la sua durata, e il terzo il frame finale. Questo viene impostato automaticamente se si è riempito il primo del secondo campo, oppure il secondo campo ad essere riempito automaticamente se si imposta il valore iniziale e il finale. Sotto il pannello zoom abbiamo una striscia dove possono comparire alcune informazioni testuali. Poi c'è la barra di avanzamento percentuale del rendering, e infine un pulsante per bloccare il rendering nel caso cambiassimo idea. Passiamo ora ad esaminare la time bar, subito sopra la timeline. È un vero e proprio righello che indica numericamente il tempo lungo la timeline. Il punto di inserimento lascia una barretta verticale rossa che ci permette di leggere il tempo o il fotogramma indicato dal cursore. In realtà, date le dimensioni ridotte, la lettura è piuttosto scomoda. Nella 5.1 possono comparire nella time bar anche una barretta gialla e una violetta. Rappresentano il punto di partenza e il punto di interruzione dell'ultimo playback effettuato, cioè della riproduzione automatica del video fatta con il tasto play. È una piccola, piccolissima comodità che, se vogliamo, ci permette di ripetere il playback dallo stesso punto dell'ultima volta, partendo dalla barretta gialla, oppure di riprendere da dove ci eravamo interrotti, partendo dalla barretta violetta. Non mi è mai capitato di usarle. Finora ho parlato dello scorrere del tempo lungo la timeline intendendo lo scorrere dei secondi. Si possono tuttavia cambiare le unità di misura da utilizzare per avere diverse opzioni per diversi compiti. Si può cambiare la modalità dal menu Impostazioni, scegliere la voce Preferenze e da qui andare alla tab Apparenza. L'impostazione scelta verrà ricordata e mantenuta ad ogni riavvio. Al solito, però, è più semplice e comodo cliccare sulla time bar tenendo premuto Control. Ad ogni clic si passa ad una unità di misura alla successiva. Le sette modalità nei loro ordini di successione sono 1. Ore, minuti, secondi e millesimi. E questa è l'unità di default. 2. Ore, minuti, secondi e frame. E' quella che uso solitamente. 3. Campioni o samples. Usata nell'editing audio. 4. Sample in esadecimale. 5. Fotogrammi. 6. Fotogrammi per piede. Se qualcuno mi vuole spiegare cosa significa, benvenga. Io proprio non lo so. 7. Secondi. Ultima cosa da sapere sulla time bar è che si può impostare il comportamento dell'insertion point. Esso può essere allineato al fotogramma, che è l'impostazione di default ed è usato nell'editing video. Oppure può essere allineato ai samples, quando si fa editing audio. La scelta fra questi due allineamenti si fa nel menu impostazioni e scegliendo la voce allinea il cursore al frame. Mi interrompo qui perché sono stato già troppo lungo e noioso.